Siamo venuti? Questo è un merda dove... Ciao! 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 Perché? Sono venuti? Sì! 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 No, se hai 10... Poi, Tu sei 19... Ochi! Sì! 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 Se hai 10, Esa è 10... Sì! 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 Sai 10? Sì! 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 per una volta che prendono un po' meno Niente? Non, non lo so 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 It's starmi Stop Stop The enemy's taking me Grazie a tutti.